Scusi, ma che ci fa lei qua? Chi le ha dato il permesso di entrare? Vorrei comprarla. Comprare? Sì. Ma chi è lei? Mi scusi, ingegner Dario Bertarello. Quanto ci vuole per farne un'altra, così? Almeno sei mesi. E a quant'è che era venduta questa qua? Questa non posso dargliela, è già venduta, le ho detto. E comunque è una cifra molto importante. Sì? Ma io ne do il doppio. Il doppio? Sì. Il doppio, ingegnere, cosa dice? Sono 600 milioni. Eh, 600, va bene. Qual è il problema? I contanti hanno bene? Si può fare? Il fare fatto? Grazie, grazie. Ah, una cosa sola, bisogna cambiare il nome. Che nome? Quello di mia madre. Grazie. 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 Grazie.